Ezechiele vide la ruota. Questa è la ruota che Ezechiele disse di aver visto. Questi sono oggetti volanti non identificati, che gente di oggi asserisce di aver visto. Sono la prova dell'esistenza di una forma progredita di vita e cultura su altri corpi celesti, oppure che altro sono? L'aeronautica militare degli Stati Uniti si è assunto il compito di investigare su questa misteriosa materia per giungere alla verità. Ciò che state per vedere sono estratti d'archivio del progetto Blue Book, documenti di una ricerca ormai ventennale. Musica Grazie a tutti.